Fit Blitz, un programma di Polina Ferrari. Ciao ragazzi, con voi Polina Ferrari, l'apparato respiratorio. Trasporta l'aria sino alle membrane respiratorie, dove avviene lo scambio di gas con il sangue, circolante, e produce suoni. Vediamo organo-componenti e le sue funzioni. Cavità nasale e segni paranasali. Filtrano, riscaldano e umidificano l'aria. Riconoscono gli odori. Faringe. È una cavità in comune con l'apparato digerente. Convoglia l'aria verso la laringe. Laringe. Protegge l'ingresso della trachea e contiene le corde vocali. Trachea. Filtra l'aria. Intrapola particelle estranei nel muco e trasporta l'aria nei polmoni. Rimani servia grazie alle cartilagini. I bronchi. Svolgono la stessa funzione della trachea. Il loro diametro decresce all'aumentare della ramificazione. I polmoni. Sono responsabili del movimento dell'aria. Durante il movimento delle coste e del diaframma. Comprendono le vie aeree e gli alveoli. Alveoli. Sono le camere poste all'estremità delle più piccole ramificazioni. I bronchioli. Agiscono da strutture di scambio di gas. Tra aree e sangue. Guardate Fitblitz su www.fitblitztv.com. Con voi Polina Ferrari. Fitblitz. Un programma di Polina Ferrari.